Bene così, bene così Vabbè Andiamo a pushare quel tizio Vediamo E qua eh Figa Marco Polo Va a pushare l'altro Cos'è cattivo Porca troia Che giocata GG raga Madonna GG raga Grande Grande raga Adesso vado a prendere la slurp Minchia demolito raga Demolito raga GG Eh mi piace la nuova arma Non so neanche perché non avessi in mano Va bene Va bene Facciamo finta che non avete visto nulla qua Cioè ero lì tranquillo Proprio easy A caricare le armi Va bene così Slurp Ah me l'ha fottuta lui Va bene fa niente Non voglio neanche vedere il loot che c'è qua Perché è proprio OP Niente a questo punto ce ne andiamo Proprio puliti così Easy Ci sono i funghetti Quanta lontana Eh la safe è lontana ragazzi Trenta secondi e si muove la safe Bella nuova arma raga Bella 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 la nuova arma Eh là ci sono le bendazze Niente dai lo shield lo recuperiamo in un altro modo Adesso Cerchiamo di andare verso la safe Questo è carico 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 Ok Belle queste kill raga Ha una precisione Mi dà paura È assurdo È assurdo Ok gli stanno sparazzando Va bene Adesso non focalizziamoci da davanti Bisogna guardarci anche destra e sinistra Potrebbe esserci gente Attenzione che andiamo ragazzi Attenzione Vorrei tanto check in arlo Ah ok se l'è fatto già il tizio Potrei provare a salirgli Ok Ok Grazie a tutti Porca troia No no niente P90 entro così raga Gli entro violento così raga Lasso giù il P90 No no gli entro super cattivo raga ma state scherzando Ma cosa fa male Ma cosa fa male quest'arma raga Il cieco d'oro eh ho perso il cieco d'oro Non l'ho visto Non l'ho proprio visto In 14 Uh cestino Perfetta questa slurp ci voleva proprio Mica siamo full con i maz Ok Siamo in 13 Andiamo a dare un'occhiata così Cerco di fare il giro dall'altra La palletta Perché c'è una palletta lì? Quasi quasi la prendo raga Per fare i push Quasi quasi la prendo per pushare No lo shop è alle 2 del mattino ragazzi Andiamo Che cazzo guardi gli uccelli Andiamo Ma cosa stava facendo Ma cosa stava facendo quello? Si 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 Ma cosa stava facendo Porca troia Porca troia Dov'è? Ho scelto che caricava Dov'è? Un momento Un momento Ho scelto che caricavano Grazie a tutti Ok Pronto La mia palletta esplosa E' figo pusharli E' quella la palletta E' figo pusharli con le pallette Perché hai Se la giochi bene Hai un colpo di vantaggio Loro continuano a sparare la palla Ma tu sei già sceso A quello gli ho sparato Un 109 in faccia raga Ok Dove l'ho lasciata? Dov'è? Ho perso la palletta raga Ho perso la palletta raga Mi servirà di brutto Per fare le pusciate Dove è la mia palletta? Va bene niente Ok Non focalizziamoci sulla palletta Dov'è l'altra gente? Ah ok Non abbiamo il cecco Ok L'ho lasciato giù apposta Peccato raga Con la palletta ero più comodo Grazie per la donation Scusami che sto guardando Grazie Marky Iscrivetevi da Marky Money Talks Dov'è la gente? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 11 kill E dopo due anni Non batte il record Ma lo va ad eguagliare Era da ottobre 2017 Che non riuscivo a fare 11 kill In una partita Che non riuscivo a fare Il